Ciao a tutti amici e benvenuti nel mondo di maffi Buon 5 aprile a tutti! Come vedete io sono in campagna a fare la classica scampagnata Come vedete dietro di me c'è una mucca sospetta La vedete? Speriamo che non mi attacca Che fate voi oggi di bello? Io come vi dicevo sono qua in campagna e ora devo fare una bella grigliata Dopo vi faccio vedere cosa mangerò e cosa griglierò Ora vi faccio vedere cosa stiamo grigliando Guardate qua, salsiccia fresca fatta dal carneziere Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!